Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti in una serata davvero eccezionale che abbiamo realizzato con due amici, due leggende dello sport pesarese e sono esattamente alla mia sinistra Marco Manzini e alla mia destra Luca Fontana. Sono due leggende perché? Perché rappresentano tantissimo. Innanzitutto rappresentano lo sport perché Marco Manzini è campione italiano di taekwondo, taekwondo paralimpico, è una figura conosciutissima a livello cittadino per tanti motivi, inserito nel tessuto davvero di Pesaro e siamo in tantissimi ad aver vissuto con lui anni e anni di gioventù, vero Marco? Certo, poi è stata una gioventù molto vera, bella, unita. Una vera gioventù della quale Marco appunto è portatore della sua immagine. Alla mia destra c'è Luca Fontana che è anche lui un grande sportivo pesarese, magari non conosciuto come altri, ci sono nomi importantissimi dello sport pesarese, ma Luca Fontana rappresenta tanto perché ha conseguito dei grandi successi nella sua carriera. Sì, diciamo che questi sono oggi, a quest'anno sono 40 anni che pratico, più di 40 anni che pratico attività da combattimento, quindi tra kickbox e taekwondo e ho sempre gareggiato, ho sempre fatto attività agonistica e oltretutto un'attività agonistica che ho passato poi ai ragazzi. quindi abbiamo atleti d'alto livello, società campione d'Italia per due volte negli ultimi cinque anni, abbiamo svariati titoli italiani, titoli universitari, Coppa Italia vinte, insomma i ragazzi stanno prendendo diciamo le orme e danno delle grandi soddisfazioni. Grandi soddisfazioni che sono legate all'attività di Activa Combat che è la palestra dove Luca Fontana insegna il suo essere sportivi, il suo proprio modo di porsi di fronte alle questioni che riguardano il fisico perché poi ovviamente per fare sport bisogna avere un buon fisico e viceversa è facendo sport che viene un buon fisico e quindi si sta davvero bene. Marco Manzini ha una vicenda personale molto singolare perché Marco Manzini vive una vita del tutto ordinaria si può dire fino a un certo punto, fino a intorno ai 50 anni, 52 per la precisione, poi Marco succede qualcosa. Allora io ragazzi facevo calcio, kickbox, pesi, non so mai, lavoravo, andavo in banca a lavorare in scooter perché io lavoravo con i crediti in centro e una mattina dopo aver corso mezz'ora in parlare con mio cane, mi sono tornato a casa, doggia, con la sera e sono partito per andare in banca ma per evitare un cane che mi ha attraversato la strada, sono caduto, il casco mi è scivolato indietro, ho fatto, ho noto tutto testa e faccia, ho fatto un mese in mezzo di coma profondo, ho avuto delle sei mustre e faccio le pratiche per l'adorazione di Orvi, poi a Elio Giuliani, mio carissimo amico che lo conosciamo tutti, amico di sapere che io sono ex portiere e grande tifoso di Zoff, mi ha fatto sentire la voce di Dino Zoff, il grande portiere, che mi ha detto Marco, sono Dino, so che sta passando un brutto momento, ti prometto che quando ti riprenderai ti verrò a trovare, io a quel punto ho aperto gli occhi con lacrime, sono uscito a coma, dopo il cartomagico di Marco mi ha portato l'autore a prendere là e Zoff è venuto lì a trovarmi. Pensate che storia bellissima, che storia fantastica, dove tanti amici si sono raccolti intorno a Marco in quel mese terribile, alcuni si sono adoperati di più perché hanno fatto qualcosa in più, hanno avuto l'intuizione, come appunto Elio Giuliani, che peraltro è un amico anche di Rossini TV, con la trasmissione insieme a Canestro ce l'abbiamo qui, si può dire tutte le settimane per aiutarci a fare al meglio quel momento d'incontro con i tifosi di Palacanestro, ecco pensate, l'idea di far sentire la voce di Dino Zoff, peraltro Marco tu hai detto che giocavi a calcio, eri un grande portiere e già prima il tuo soprannome era Manzov? Manzov sì, era Manzov, perché è un portiere, il grande tifoso della Juventus e Dino Zoff, cosa importante, per me è stato il più grande portiere del mondo e anche adesso è il più grande uomo, cosa molto importante, infatti Zoff è venuto, campioni si è, si è campioni nella vita, se no uno è solo un buon giocatore. Bravissimo, è proprio vero, lo diceva anche Nereo Rocco quando parlava di calcio, che diceva in campo come nella vita, nel campo si vedono davvero uscire le personalità degli uomini, dei giocatori, che poi sono quelle che in realtà attuano in tutte le loro scelte quotidiane, quindi una storia davvero incredibile quella di Marco, poi dopo c'è stata la ripresa e non è stata comunque una ripresa facile, ci hai messo tantissimo del tuo. Io ragazzi ho fatto nove mesi attuando per tre, praticamente pallizzato a sinistra, non avevo manco le dita, intubato, e andavo in giro per la torre Piedella con la carossera, con un braccio solo giravo, quando mi hanno detto Marco la taglia purtroppo è positiva, da qui non ti asci più, sei da a rotelle a vita, a bittui, dimentica la vecchia vita. Io gli ho detto, dottore, ma sicuro non la posso fare? No, non c'è la posta, guardami, mi sono alzato da solo, con tutti i mesi che mi lavorano, il medico migliore è qui dentro, io sconto solo, me stesso, e fate anche voi, e mi prego a camminare con tutti. Adesso cammino, guido, sono tratti in banca, faccio il taggondolo, con il grande maestro Luca Fortuna, che oltretutto è il mio grande amico, e anche il mio metacolo, che è molto importante, perché nel sport, come nella vita, è la testa e il conto, i muscoli, la forza ce l'hai dentro di te, basta che la tiri fuori, e devi essere convinto della tua forza, che tutti ce l'abbiamo, abbinata all'alte del sacrificio, però la vita non ti rega niente, ti ha la sua sagrada forza, approfitta e vai. E considerate che l'incontro di Marco con il Taekwondo è stato davvero un incontro, un colpo di fulmine, vedete tutti i trofei, ne abbiamo portati pochi in studio, perché in realtà ne ha molti di più, tantissime coppe, queste sono le targhe che gli sono state consegnate in tante situazioni, e dicevamo di questo colpo di fulmine, è stato un innamoramento per il Taekwondo, in realtà, è stato un innamoramento amicale, poi per Luca Fontana, perché in realtà poi Marco, l'amore lo ha anche impersonificato in una bimba di due anni, esatto, di un anno, pensate, Naomi, quindi Marco è papà da un anno di Naomi, e il suo amore per il Taekwondo invece è stato tradotto in qualcosa di concreto da Luca Fontana. Luca, hai incontrato Marco, ti sei detto, qui dobbiamo rimboccarci le maniche, tirarne fuori un campione. Allora, sì, allora, quando Marco è venuto, lui ha sempre avuto la passione per le arti marziali, anche da ragazzino, e quando è venuto è stato più un fate quando, ma perché deve migliorare, era una cosa per lui, per migliorare a livello motorio, a livello di equilibri, a livello di memoria, perché aveva la memoria breve, non si ricordava quello che faceva adesso, magari si ricordava quello che aveva fatto due anni prima, ok? E quindi è stato un, cominciamo ad allenarci e ha come obiettivo fare il Taekwondo per Marco e per me quel momento era, facciamo migliorare Marco su vari aspetti, ok? Quindi deve stare meglio e dobbiamo cominciare questo lavoro. Una sorta di percorso di rieducazione. Sì, è stato, nel vero senso della parola, è stata una riabilitazione, un aiutare, già quello che faceva in palestra a livello di pesi, di forze e tutto il resto, con un obiettivo di imparare il Taekwondo, abbiamo cominciato a stimolare tutte quelle capacità che Marco ancora non aveva, che aveva perso, perché aveva rieducato il camminare, aveva rieducato il movimento, quindi aveva perso un po' tutte queste capacità. E quindi abbiamo cominciato piano piano con, prima il muoverci, il muoverci con dei piccoli circuitini, con dei birilli, con delle cose, che per lui era molto difficile, il cambiare direzione, quindi fare dei piccoli cambi di direzione, il camminare in linea, il camminare con un peso, il camminare indietro e laterale, era una cosa che lui non riusciva e abbiamo fatto piano piano questa cosa, dopo di che abbiamo cominciato a stabilizzare il movimento, quindi prima camminiamo, poi abbiamo cominciato a fare un lavoro per la stabilità, quindi richiamare tutti quei muscoli a lavorare, cioè tutti i muscoli stabilizzatori a lavorare, quindi a non mollare, a non stare sempre così, ma mollare e piano piano riprendere anche una postura più corretta possibile. E niente, dietro a questo piano piano abbiamo cominciato a lavorare poi anche per gli equilibri, che poi è tutto un po' legato, e quindi con esercizi in monopodalica, quindi su un piede o allungando molto la posizione, sulle piste proprio eccettive, quindi in equilibrio sulle piste, inizialmente stava a 4 secondi, siamo arrivati a 4 minuti. Nel giro su due piste in equilibrio, quindi un po' alla volta, come gioco, oggi facciamo le piste a 4 secondi, facciamo il record, via, 4 secondi, 8 secondi e siamo arrivati a 4 minuti. Dopo di che abbiamo cominciato a lavorare invece sulla tecnica, perché ovviamente con la disabilità di Marco difficilmente porti un calcio vero, quindi Marco non porta calci veri, però simula bene una tecnica, quindi il movimento della tecnica l'abbiamo migliorato e ampiato, quindi tira bene il pugno, tira su la gamba e prova ad allungarla, anche per quello che riesce ad allungarla, perché completamente non la distende. e ovviamente per fare questo deve stare su una gamba, molte volte per fare un laterale deve stare sulla gamba girando il piede sotto, quindi in sintonia, in sincronia deve lavorare sul movimento, sulla catena cinetica che porta poi alla tecnica. Fatto questo abbiamo cominciato a pensare alla memoria, ok? Quindi cominciamo le forme. Un percorso davvero lungo e complesso. Le forme a lui sono noiose, erano quella volta. E allora abbiamo detto, Marchino cominciamo a fare le gare, quindi lui la gara già, cazzo la vinco, lui è un competitivo e quindi iniziando a provare la gara abbiamo cominciato a fare le prime forme, le forme si sviluppano sui quattro lati, quindi avanti, lato, lato, avanti, lato, dietro, ci sono dei movimenti prestabiliti su tutte le direzioni, proprio avanti, facciamo proprio degli schemi, ogni forma ha il suo schema. E hanno movimenti con all'interno delle tecniche, tecniche di calcio, tecniche di pugno, parate, parata media, parata alta, parata bassa, parata di taglio e via dicendo. Quindi dietro a queste abbiamo cominciato a imparare la prima, a imparare la seconda, poi abbiamo saltato la quarta perché è una forma che a lui non riusciva magari, abbiamo fatto la quinta e quindi la terza e la quinta poi le abbiamo portate in gara, abbiamo fatto le prime gare. E sono arrivati i risultati. E sono arrivati tutti i risultati. E sono arrivati tutti i risultati. Marco, elencaci qualcuna delle tue vittorie perché è bello sapere appunto che tu ti sei messo in gioco, hai seguito i consigli e gli insegnamenti di Luca, del grande maestro e hai raggiunto i risultati che in realtà forse neanche tu ti aspettavi di raggiungere. Io sicuramente se ero non disabile i risultati non li prendevo, prima, perché il livello è molto molto alto e poi però nella vita devi sempre avere un obiettivo, ti dà lo stimo di lottare, di andare avanti, di sacrificarsi. Io l'ho fatto molto perché sono la madre dell'arte mazzale perché oltretutto, oltre che il corpo, aiuta anche la mente e dentro, la serenità, sentirsi forte, che è molto molto importante sentirsi forte, padrone di se stesso. Io l'ho fatto questo e il maestro mi ha dato dei insegnamenti, delle motivazioni incredibili anche se era facile per me, considerate che io ho fatto questo secondo con pochissimo equilibrio, lui l'ha tante volte, lui che mi ha raccolto, però non importa, io cado e mi rialzo. E sei campione italiano. Sono campione italiano, ho fatto terzo agli Europei Open, che è un mondialito, con la costa rotta, a barri di 2019, cintura l'era secondo Dan, la mia vita più grande è essere lì, in mezzo alle trenti, questa è la mia vita più bella. Questa è la tua vita ed è anche il titolo della trasmissione che stiamo facendo questa sera, che è Se vuoi puoi, perché davvero Marco Manzini è questa grande dimostrazione. Luca, la tua palestra, la tua palestra è aperta a chi ovviamente vuole cimentarsi, anche proprio perché tu ci hai dato un'idea di quello che è il Taekwondo, parlandoci di queste figure, di queste forme, in realtà sicuramente è molto di più, è anche disciplina, è voglia di stare insieme, è conseguimento di risultati davvero per se stessi, ma non solo, in un ambito più grande. Quindi il Taekwondo, entriamo anche un attimo meglio per capire questo sport. quando si parla di arti marziali, arti marziali, attacco, difesa, in realtà qual è il grande segreto di questo sport, di questi tanti sport che poi, soprattutto in Oriente, davvero Corea, Giappone, tu hai conseguito anche dei titoli in Corea, molto importanti, esatto, è pregnante nella vita di queste grandi culture. Allora, per quanto riguarda la difesa, ho un po' la mia teoria, cioè nel senso, quando si dice sport di difesa, e diciamo che non è vero, secondo me, ma anche secondo molti, oppure se uno già basta che ci ragiona, non è vero. Non è vero perché? Perché in teoria non è mai una difesa, è una difesa perché io vengo attaccato, ma se vengo attaccato posso fuggire, in teoria. Quindi ogni volta che uno mi dà uno schiaffo o mi prende per il collo, ok? Io in quel momento teoricamente mi difendo, ma la tecnica che faccio è una tecnica di attacco, ok? Quindi, lui mi aggancia, io prendo, tiro il pugno. La mia non è una difesa, la mia è un contrattacco, ok? Quindi, quel fatto che magari uno va lì per difendersi, diciamo che è vero da una parte, ma non è proprio del tutto corretto. Ok, non so se mi sei spiegato. Ti sei spiegato molto bene, nel senso che poi dopo chiaramente la difesa si trasforma in attacco nel momento appunto in cui ci troviamo in una situazione di emergenza nella quale dobbiamo reagire a un pericolo. Ma al di là dell'aspetto puramente fisico, l'abbiamo detto e l'hai spiegato benissimo prima, è uno sport, il Taekwondo come gli altri appunto, come le altre arti marziali, di grandissima disciplina mentale, perché ti mette di fronte ai tuoi limiti e alla tua voglia di migliorare proprio il tuo fisico e la reazione del tuo fisico. Sicuramente la cosa principale che un'arte marziale, uno sport da combattimento dà è il miglioramento dell'autostima. Quindi noi miglioriamo molto con la testa e se miglioriamo molto con la testa miglioriamo molto fisicamente perché la spinta, diciamo, l'arrivare sempre al limite delle nostre possibilità, capacità di quel momento, perché il nostro limite potrebbe essere anche un minuto di allenamento, noi arriviamo a quel minuto perché la volta dopo dobbiamo arrivare a due minuti. E per farlo ci vuole sudore, ci vuole costanza, ci vuole sacrificio, dolore perché poi dolori muscolari, colpi che prendi che non fanno bene, insomma si sentono. E quello aiuta molto, ma molto visto molto aiuto specialmente lo dà a chi, diciamo, è quello timido, quello che ha un po' problemi di socialità anche. Che deve tirar fuori se stesso. Bravo, quello o quella che deve tirar fuori se stesso, perché da noi, almeno nella nostra palestra, la cosa principale è il rispetto per tutti. Quindi, il campione, noi abbiamo sbagliato i campioni italiani, c'è stato il campione europeo, i professionisti di kickboxing, quindi titoli italiani professionistici e dilettanti, ma da noi l'ultimo che arriva vale come il super campione. Nessuno deve permettersi, ma lo fanno già in automatico, quindi non abbiamo neanche di dirglielo, di portare, prendere in giro qualcun altro, perché è, diciamo, tra parentesi, scarso, o non ha le capacità di altri, perché non tutti arrivano ad essere campioni, però tutti riescono ad essere dei buoni atleti. Se si impegnano a fondo, come si è impegnato Marco? Marco, ci avviamo verso la conclusione. Quante volte ti alleni tu? Tre volte alla settimana. Tre volte alla settimana, quindi sei in palestra, ti metti alla prova contro te stesso, ogni allenamento è una sfida da superare, perché per me la più difficile da superare sia te stesso. E tu hai anche un messaggio molto importante che noi vogliamo rilanciare anche con questa trasmissione, è un po' il motivo per il quale l'abbiamo fatto. La disabilità è una condizione, ma è una condizione, e lo insistiamo, lo diciamo tante volte, mentale, ma è una condizione di normalità. La società deve lavorare al meglio, perché questa non sia una vera disabilità, e come dice Marco, Marco è in primo luogo anche e soprattutto una questione mentale. la disabilità, secondo me, non è fisica, è mentale. Da qui parte tutto, la forza, la paura, la paura, poi io direi che è solo un'illusione mentale, toglie, ti blocca mentalmente e fisicamente, e non conclui niente. paura, non esiste. Tanti ogni di noi ha una sua strada, la fai convinto di te. Tanti ha un ostacolo, non fermarti a piangere, butta il cuore avanti e saltalo. Gli ostacoli sono fatti apposta per essere superati. Si dice che la vita è un susseguirsi di situazioni, ma in realtà la differenza fa come queste situazioni le affrontiamo. Marco Manzini l'abbiamo conosciuto, lo conosciamo, ripeto, anche al di fuori di questo contesto da tanti anni. Sappiamo qual è il suo percorso e davvero lo ammiriamo, perché il suo messaggio è un messaggio importantissimo per tanti, che magari tendono a piangersi addosso molto spesso, anche senza motivi, Marco. E non esiste. La unica persona che può fare un miracolo per te, sei te. Ricordi sempre, sentiti forte perché lo sei e vai avanti ascoltando solo te stesso, come ho fatto io. Mi sono stato da sedere all'hotel, quando ero a Pusdia, ho vissuto quando ero morto, sono diventato più italiana dopo fare le gare che ce l'ho fatta, però sono nella strada italiana, sono anche metacorso nella strada italiana parolimpica, ho fatto anche, faccio anche motivatore per fare le gare disabili, io sono vicino alla strada italiana perché la mente cura anche il corpo. Grande Marco, una grandissima lezione. Le lezioni che poi tu hai preso da Luca in palestra, Activa Combat, che vogliamo davvero menzionarla ancora una volta per la sua attività importantissima, porte aperte davvero a tutti coloro che vogliono cimentarsi e magari diventare dei campioni appunto, soprattutto nella vita, soprattutto nella vita, quindi la cosa principale è allenatevi da noi, da altre parti, l'importante è che i ragazzi facciano attività e che i vari istruttori, i vari allenatori, i vari maestri insegnino a tutti proprio il rispetto degli altri e il comportamento esterno più che interno alla palestra. Quindi far diventare campioni i ragazzi fuori prima e poi sicuramente in palestra diventeranno campioni veri. Grandissimi insegnamenti, grazie davvero a Marco Manzini. Grazie a voi, 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 grazie a voi. Ricordiamo proprio in chiusura il titolo di questa trasmissione che andiamo a concludere, se vuoi, puoi, non dimentichiamocelo mai perché davvero è un titolo che dice tutto, carissime amiche, carissimi amici, buon proseguimento di serata sul canale 80 di Rossini TV. Grazie a voi, grazie a voi.